Ciao a tutti, benvenuti. Oggi parliamo ancora una volta di TypeScript. Nello specifico oggi parleremo di quelle che sono le dannate variabili globali. Chiunque in questo momento stia dicendo, eh, sono il malo assoluto, bisogna evitare a tutti i costi utilizzarle, pittipi pittipa, ha perfettamente ragione. Però ogni tanto non si può fare a meno di utilizzarle quando ad esempio abbiamo librerie di terze parti oppure qualche script che ingetta qualche oggetto globale all'interno del nostro progetto e abbiamo bisogno di andare a tipizzarne i suoi elementi. Un esempio molto pratico che si vede molto spesso è quando uno prova ad andare a interagire con quello che è un qualcosa che è stato aggiunto a quello che è l'oggetto Windows e per evitare di avere TypeScript che piange e ci dice che non va bene, comunque il compiler che non ci permette di andare avanti all'interno della nostra applicazione va a definire Windows eseni e poi si chiama il suo metodo, in questo caso che può essere fu. E fin qua tutto quanto funziona a meraviglia. La soluzione è quella di magari fare un file separato, quello facciamo per semplicità rispetto a quello che è il progetto, uno può andare a dichiarare quello che appunto è una variabile globale. Così come JavaScript ha un suo contesto in cui sono appunto storate tutte le variabili globali, anche TypeScript ha questo contesto. Per accedervi bastará definire quello che è declare e poi si definisce in questo caso global, che appunto è lo scopo globale e altro non va a fare che dire interface window e ci aggiunge quello che è il metodo fu. Ora se andassimo qua sotto, appunto io se vado a definire window.fu, no, non focus, fu, 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 perfetto, fu, ecco che in questo momento ho esattamente quella che è la mia definizione, se andassimo appunto magari a dire che ritorna quella che è una stringa, ecco che ho fu che ritorna una stringa. Se io sotto andassi a definire ancora una volta interface e vado a definire quello che è il metodo bar, se io qua appunto richiamassi bar, ecco che ho anche accesso al metodo bar, appunto se andiamo con l'autocompiler. Ecco che mi trovo con quello che è il mio metodo bar, che ritorna esattamente una stringa come annunciato. Diciamo, è questo metodo di andare a definire interfacce e assegnarvi ci metodi, aggiungere metodi, si chiama declaration merging. Quello che ci permette di fare, diciamo, la differenza sostanziale tra quello che è un type e un'interfaccia è che se appunto io qua definissi quello che è il valore di type, ecco che non avrei esattamente lo stesso risultato perché Windows già esiste all'interno del contesto globale, ottengo il fatto che sia duplicato e non lo vado a estendere. Invece con le interfacce io quando ridichiaro un'interfaccia che è già esistente, se all'interno di essa vado a raggiungere un qualcosa, ecco che la sto estendendo e non la sto riscrivendo. Questa è la differenza sostanziale tra quello che sono le interfacce e i type, tra le altre tante differenze ci sono, però questa è diciamo un pochino la più corposa che ne definisce. L'utilizzo, la scelta di utilizzarne una piuttosto che un'altra, dipende quante volte uno deve andarlo ad estendere. Però smettiamo caso che io non avessi voglia di andare a estendere l'intero contesto globale di Windows perché mi serve solo estenderlo in questo file, io piuttosto che fare questo tipo di lavoro posso andare a declarare, a fare un declare di una costante che si chiamerà Windows, a cui assegnerò quelli che sono i miei metodi fu e bar. Ed eccomi di nuovo nella condizione in cui la mia finestra è estesa e possa accedere a questi metodi. Ok, questo mi permette di estenderla solo relativamente al file di cui ho bisogno. In più mettiamo a caso che io volessi, magari riscommentiamo questo, ci togliamo questo che abbiamo già risolto qua sotto e poi ho bisogno di dichiarare un'interfaccia nuova che in questo momento io non ho. Quindi magari vado anche a dichiarare un type, non c'è bisogno di avere un'interfaccia, la chiamo ad esempio ga e vado a dire che sarà appunto uguale a un oggetto vuoto come in questo caso. Il valore track, se io provo poi a definirlo, ecco che posso fare anche una cosa un pochino più carina è quella di andare a definire un type che magari io chiamo type Google Analytics. vado a dire appunto che ha al suo interno questa cosa incredibile che abbiamo scritto, io facciamo così, ci metto track e send e assegno a ga il fatto di essere uguale a Google Analytics. Ecco che quando io vado a lavorare con quello che è l'oggetto appunto test, ora in questo momento lo posso definire. Ecco che io posso andare ad estendere, magari appunto io me lo posso esportare in giro per i miei componenti da altre parti di quello che è il mio progetto, posso andare ad estendere eventualmente questo oggetto nel caso avessi in piano di estenderlo con frequenza, conviene definirlo come interfaccia piuttosto che come type, io lo posso estendere in diverse parti della mia applicazione e verrà poi esteso anche rispetto a quello che è il contesto globale. Quindi con questo spero un po' di aver fatto chiarezza su quelle che sono e dell'utilizzo del contesto globale rispetto a TypeScript, come tipizzare quando lavoriamo con degli oggetti che sono appunto istanziati da terze parti o comunque script che ingettano all'interno del nostro progetto, magari creano un nuovo parametro, un nuovo oggetto sulla finestra, sull'oggetto Windows oppure creano appunto dei nuovi elementi globali.